Le Olimpiadi di Tokyo con l'impresa di Aldo Montano a quasi 43 anni ha dimostrato di poter tirare di sciabola contro i migliori al mondo conquistando un argento nella specialità a squadre. Gli inviati Giorgia Cardinaletti e Marco Sanga. Ragazzi sono volati, se ti faccio un salto ti giri e vedi 17 anni passati volati completamente. Tutto meraviglioso, tutto bello, cose che rifarei e se avessi la possibilità le rifarei per altri 20 anni. Difficile dire addio quando l'inizio sembra ieri. Aldo Montano, Atene 2004, oro nella sciabola, 5 Olimpiadi dopo. Da riserva titolare trascina gli azzurri infiniti. Questo rinvio di un anno alla mia età un po' mi è arrivata dietro la testa la mazzata. Un po' di paura c'è stata, però la gioia di essere qua, di aver contribuito a questa semifinale, al raggiungimento della finale con un'ottima prestazione in semifinale è stato meraviglioso. Il figlio Mario, nato a febbraio dopo Olimpia, 4 anni. La dedica sicuramente per loro, per le generazioni che verranno, per i piccoli di casa. Mario ancora non capisce ma Olimpia l'ho sentita prima e è stata così. Molto carina che mi ha incitato, forza babbo, forza babbo. E il medagliere azzurro cresce anche grazie a due bronzi.